Signori qui abbiamo il MacGyver delle postazioni Bentornati su Commento le vostre postazioni La serie più amata da tutti gli italiani Nota anche come CLVP è la serie in cui commento le vostre postazioni Vi do consigli, facciamo un viaggio in quelle che sono i vostri setup Build, idee, tastiere, mouse e schifezze di cavi inammissibili Pieni di giungle e robe veramente terribili E ovviamente postazioni con portatili e singole strisce LED Quelle sono le vostre preferite, ce ne sono decine Non vedo l'ora di vederne 400 Andiamo! Come al solito, like, iscrizione e commenti sono molto molto graditi Iniziamo dal fondo Il buon Filippo ci manda una postazione con... Oh mio Dio Uno, due, tre, quattro monitor Sono già curiosissimo Quattro monitor, due cuffie, amplificatore, microfono, mouse, scrivania Hai solo una scrivania ma hai quattro monitor Tu sì che sei pazzo Fermi tutti, ci ha mentito Dov'è il quarto? Oh è qua Ehi, aspetta un attimo, perché il monitor è dall'altra parte? Quest'uomo sa leggere i monitor senza neanche guardarli Lui è il signore dei monitor Mi piace comunque che tu abbia così tanti monitor che hai dovuto mettere... Hai dovuto mettere il PC per terra Morte nera nello sfondo Altra roba di Star Wars sul monitor verticale Postazione molto semplice Io allargheria un pochettino sto tappetino Sei un po' costretto con quel mouse Non so se è una mia impressione Poi magari mi sbaglio Però avendo sto tavolone gigante Oltretutto bellissima profondità Non so se sia l'effetto della foto Ma la profondità è notevole Io allargherei Scelta molto, molto, molto valida per il dissipatore Ti sei basato su un Arctic Oltretutto fai il trucchetto di far passare il cavo della scheda video sopra ai tubi del dissipatore Queste robe da pazzizzine, mamma mia Case che devo dire In realtà si vede che l'hai fatto pensando alle prestazioni prima che l'estetica Non è un insulto Buona soluzione di cable management Bravo Ah ma aspetta ma c'è dell'altro Perché questa Fermi tutti Ho appena commentato una postazione del 2000 di un anno fa Filippo ci manda la sua postazione Di nuovo E c'è un'evoluzione Questa era la sua postazione nel 2018 2018 postazione da studentello Vediamo Siamo pronti? Bro ha detto RGB Sì Wow Hai tre monitor? Hai smesso di guardare i monitor dal lato Hai aggiunto un portatile Perché sei mattissimo Hai allargato Allargato il tappetino Guardate Senza volerlo Ha seguito il mio consiglio Appena dato Pazzesco ragazzi Reattivi come poche cose Ha una scheda video gigantesca Che in realtà credo sia sempre la solita Aorus master di prima Ha cambiato dissipatore con un altro dissipatore Aorus Riconosco il simboletto E ha messo una quantità inumana di ventole Tra cui queste tre che io dubito siano reverso Quindi stai facendo estrazione ovunque Ah vabbè 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 In realtà l'unica cosa che non mi torna È che tu abbia messo queste tre ventole qui sotto Aspettateci Andiamo a indagare Aha No Sono le Swafan X Allora questo ragazzo apparentemente potrebbe ingannarvi Perché qua ha messo sei ventole Che sembrano essere tutte in estrazione E uno dice che cosa Te le fai In realtà è stato molto intelligente Sono le Swafan X 12 di Thermaltake Quindi sono reverse E quindi stanno immettendo aria Un applauso per aver fatto il primo PC acquario esteticamente bello Ma soprattutto pratico che abbia visto negli ultimi anni Un applauso E soprattutto un applauso perché questo ragazzo ha un profumo sul suo tavolo Lui è un great boy Ok Prima di tutto guardi i miei video Quindi sei già una persona perfetta Seconda cosa hai una stampante Attaccata al portatile Ah no è perché è lì sul lato Wow Si vede proprio che è una cameretta Perché ti sei dovuto giocare veramente in uno spazio minuscolo C'è veramente c'è il letto Guardate è a 5 cm dalla postazione Malapena ci sta la sedia Però ci sei riuscito a starci Ti sei fatto la tua piccola postazione Guardi i miei video quindi Fantastico Mi ricordo di questa postazione Stiamo parlando forse però Di un po' di mesi fa Di un po' di mesi fa All'interno di me ci sono due lupi Uno è sul mousepad a destra E uno sul mousepad a sinistra Non lo so Cioè figata l'ho visto Mousepad con i lupi Ok Molto bene Molto bene Oddio ma questa è una radio Una radio con cd Wow Ciao sono Simone Ti saluto qualche anno Sei davvero simpatico e competente Ok Allora ragazzi Inizio a saltare un pochettino le descrizioni A meno che non siano necessarie Perché se no c'è salto delle postazioni delle persone Per leggere le descrizioni degli altri Invece cerchiamo di fare tutto bene Signori qui abbiamo il MacGyver delle postazioni Un capolavoro Abbiamo delle casse che vengono utilizzate Allora prima di tutto abbiamo un cordless E va benissimo così Non ne vedevo uno da tre anni Poi abbiamo delle casse utilizzate come supporto Per una tavola di legno che supporta a sua volta il monitor Ma lei è un artista Lei è un ingegnere Un ingegnere Bellissimo Ma poi questa è una scheda audio E hai saldato tu dei pezzi? Perché non mi puoi dire che questa cosa è uscita da una fabbrica Con delle certificazioni Questo è un Firehazard gigantesco Cioè Wow Ma lei è un ingegnere Io la stimo tantissimo E qui sotto abbiamo la mega presa Che è letteralmente Quest'uomo è un ingegnere elettronico Imparate Imparate ma non imparate Imparate ma non imitate Perché bisogna saperlo fare Non imitatelo a casa Riccardo Riccardo ha deciso che gli piacciono i monitor E usa i monitor come portaoggetti Sicuramente da migliorare il cable management Harry Potter ti piace Decisamente ti piace Harry Potter Mi piace il tappeteo della futura Tipo preso dalle scuole Di quelli che ti regalano le medie Ce l'avevo anch'io tranquillo Bellissimo E poi ovviamente altra roba di Harry Potter Ti piace proprio E un commento le vostre postazioni qui Massimiliano di 15 anni Ama fare le foto sfocate mosse Qua abbiamo una sedia con delle componenti Questo uomo ha delle idee pazze non farlo Ah ok no L'hai messa in un pc Bravissimo Ma quanto ti piacciono le macchinine Guardate che carino Ha messo le macchinine nel pc Scusa se ti dico carino È che è praticamente la metà dei miei anni Quindi mi sento un po' grande In questa situazione Questo controller sembra un controller della Playstation Ma devo essere onesto Scusate ho bisogno di girare un secondo l'immagine Ok Questo controller della Playstation Sembra un controller della Playstation Ma non ne sono sicuro che lo sia Credo che siamo di fronte a un caso di contraffazione Ti piacciono anche le belle macchine Devo essere onesto Ma questo cappello da rapper anni 80 Che deve salire sul palco A frantumare il culo di tutti quanti Grande Non devo dire queste parole C'è un pubblico di quindicenni qua Maledizione Non hai neanche una scheda video Ti auguro di recuperarne una Sentirai una differenza notevole Questa ciabatta è la cosa più ingegnerizzata Che aveva Un Firehazard Allucinante Massimiliano aveva mandato un'altra mail E inizia così l'oggetto Ciao sono Spupapollino Bro tu non ti puoi chiamare Spupapollino Come nome di internet frati Tu stai richiedendo del bullismo Oh Attenzione Riccardo di 18 anni Questi sono i dati della sua postazione Ci dice qualcosa di pesante Il ragazzo ha deciso di personalizzare camera proprio in maniera imponente Tantissimi pop sulla destra Tantissimi controller Tantissimi govi Tantissimi monitor Tantissimo cable management Assurdo Bravissimo Ma è pulitissimo È meglio della mia È oggettivamente meglio della mia Io non so Tu te ne faccia di quattro monitor Perché io ho fatica a usarne uno a momenti Però Wow Bello Ma è il mio stesso case Ma aspetta È il mio stesso case Ho sbaglio Sì è il 5000T Io il 5000D È il mio stesso case È anche la stessa configurazione di ventole Tranne quella posteriore Tu utilizzi una di Leon Lee Io utilizzo tutte di Corsair Perché mi piace il rumore E tantissime action figure Bella Ultimo sguardo prima di andare Devo dire Bella Davvero bella Gran postazione Complimenti A parte la sedia RGB Quello ti qualifica come una persona speciale Come la tua postazione L'oggetto di questa postazione È grossa postazione pazza La grossa postazione pazza In realtà non è così pazza Ma è un po' tosvero Tu sei che sei pazzo Ce l'ho anch'io Lì dietro Hai un cospicuo numero di dispositivi Nella tua postazione pazza Wikiplanner E su due giorni c'hai la Playstation 5 E su due giorni c'hai la PSP Mi piacciono i tuoi piani Però vedo che vai ancora a scuola Zio Hai pure un divano Per gli amici Oh Ma quanto sei chill Madonna Ci sta il cable management Te lo sei arrangiato bene Potresti coprirlo Ma renderebbe un po' difficile L'accederci Ma bravo Daniel si è incriccato In una maniera incredibile Ma devo dire che mi piace Moltissimo quello che hai fatto C'è tanta personalizzazione In questa postazione Andante verso il viola Grandissima attenzione a questa cosa Ha cambiato anche i joystick Della Steam Deck E del controller Della Playstation Ti piace tantissimo L'universo Playstation Si vede però Hai anche un controller Xbox PC ovviamente viola Ottimo ottimo dissipatore Thermalright Bravo 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 Alessandro Ha una situazione un po' particolare Ale Se ti posso dare un consiglio Sposta questa ventola qua Che sta soltanto rubando aria Al dissipatore La sposti qui Qui dietro Se ci sta Ma secondo me ci dovrebbe stare A occhio Perché così Aiuti l'iezione dell'aria calda Verso l'alto E verso invece La parte laterale Così eviti di rubare aria Al dissipatore E invece incentivi La distribuzione dell'aria Nell'ambiente Semplici airflow Ed eviti anche Insomma Di avere il rumore inutile Perché quella ventola Non sta contribuendo In nessun modo Oh mio dio Aspetta un attimo Cos'hai qui sotto Cos'hai qui sotto Ehi Ma quello Mars Gaming 650 Watt MPB 650 Oh Non mi ricordo Se è buono o meno Questo Però Mars Gaming Ho difficoltà a dimenticarmi Bello Questo monitor verticale È letteralmente una casa Ci puoi guardare i TikTok Più grandi della storia Tappetino minuscolo Però mi piace Perché Oddio ma è tagliato Ma è tipo Aspetta Questa qui è tagliato di lato Cioè ha preso un tappetino normale E l'ha tagliato What the fuck Ok Però ha fatto i graffiti sul muro È autocelebrativo Che grande Gabriel 28 anni E sono sardo Eee Uno di noi Uno di noi Abbiamo una postazione In realtà Con tantissime Tantissima descrizione Queste sono le caratteristiche Del suo pc e postazione Diamo un'occhiata Allora Prima di tutto Segui il mio canale Sei iscritto con la campanella Diamo un'occhiata Sì Va bene Oltretutto 979 L'hai proprio mandata Ah vabbè C'è il video di Rogue Alliex Quindi sì È proprio recentissima Ok Molto molto pulita Bella Mi piace che riutilizzate monitor Magari che pensate Cioè che magari avete sostituito A quello principale Molto particolare Vedere due monitor Con il loro stand Molto molto particolare Di solito Non lo vedi Ottima scelta di dissipatore Come prima dicevo Thermalite Veramente fantastici Bella build In generale Bella build Cioè soltanto la scheda video Un pochettino stona Con tutto il tono del bianco Del resto Ma non sta in realtà Tanto male Oltretutto È un'ottima custom La Tuff Sedia ergonomica Bravissimo Piccola collezione Di argomento Dragon Ball Sharon Super Saiyan Goku Ok Sì Bella Ci sta a mettere Le proprie passioni Nelle postazioni Lo faccio anch'io Con le piante Qua si vede Che abbiamo La stessa età Qua si vede Che abbiamo La stessa età Perché Queste sotto i vent'anni Sono un po' più difficili Da trovare Nella loro cultura Belle Belle Molto carine Non avevo mai visto qualcuno Con le action figure Delle tartarughe ninja Devo essere onesto Grande Gabriele Oh Giovanni non si perde in chiacchiere Ci manda i dettagli E le foto E augura buona giornata Che grande Allora Abbiamo un pc Con una grossa attenzione All'estetica Perché potete vedere Una scheda madre ROG Potete vedere un case Di li e li Potete vedere una supreme Potete vedere tantissime ventole Veramente tante ventole Sono nove Wow Qua ci starebbe bene Un lcd secondo me Al posto di quella in estrazione Che giustamente non monti Perché hai già un patrimonio Di ventole incredibile Allora Postazione in realtà Ah è un work in progress Aspetta È un work in progress Perché qui hai una Un setup E qui ne hai un altro Ah ok Questo è il pc Che andrà a utilizzare Che sta creando Assemblando Modificando Tutto quanto Aveva appena finito Quando abbiamo dato la postazione Quindi le foto Sono di prima Ma adesso cambierai il pc Secret lab Con la versione in tessuto Uh madonna Ma che pulito Mamma mia Ma è impressionante Anche il pc di prima Comunque ti trattavi bene Hai spostato la scheda video Vedo Da questo setup all'altro Ci sta anche Ma sta mente Postazione super pulita Chill Fantastica Grande Giovanni Ma Jubilee Nel senso che ti chiami Jubilee Di nome Ma quella è Ranny Ma quella è Ranny È mia moglie Letterale Regolare È mia moglie Su due schermi Cosa ci fanno le foto Di mia moglie Nel tuo pc Eh Solo io Ho finito la campagna Delle stelle Di Elder Ring Sappilo Ah eh Vedi 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 Si è spaventato Ha cambiato le foto Non vorrei dire Minaccioso Minaccioso a livelli Minaccioso a livelli incredibili Ah ma hai solo due foto Ma è una postazione Molto kawaii Devo dire Scusate Devo guardarla così Perché è increata È una postazione Molto kawaii Ma secondo me È la postazione Di una fanciulla O comunque di una persona Con un gusto estetico Molto morbido E vorrei vedere Di più del pc Ti giuro C'è qualche foto del pc No Però c'è quel personaggio Lì che è della Sanrio Credo Vedo fiori Cose È davvero carinissima Questa postazione Avrei voluto vedere Più dettagli Anche della tastiera Ci dice qualcosa Della tastiera Giubili Se per una prossima edizione Di commento Le vostre postazioni Magari volessi mandarmi Delle foto un po' più accurate In una descrizione Mi farebbe tanto piacere Perché sembra veramente carina Qui c'è la postazione Di Luca Immagino che se Vedi queste immagini Sai che è la tua email Luca Gentilmente Non riesco Ad aprire le foto Che mi avevi mandato In precedenza Riesci Per favore Siccome mi hai scritto Una mail veramente molto bella Che avevo già letto a marzo Quando avevo fatto L'altro episodio di CLWP Gentilmente Riesci a mandarmi le foto Come allegato e basta Non come RAR Non compresse Giusto le foto necessarie Da comprensazione Mi dispiace Non commentarle Però effettivamente Prima di tutto Non dovrei aprire Un file compresso Non identificato E non scannerizzato Sul computer aziendale Seconda cosa Mandamelo esattamente Come mi hai mandato Queste foto dell'aggiornamento Così come fanno gli altri Così ti metto in mezzo Mi dispiace non commentarlo Ci vediamo al prossimo episodio Non quello che esce subito Dopo di questo A settembre Tu manda Vorrei mettere nel video Questa cosa che Arias ringrazia i suoi amici Edo e Angeluz Per la fase di montaggio E installazione software Di Win11 Prostata Amici In fase di montaggio Pagate impegnarvi un po' di più Perché Ma ci sono i cavi Che sembrano Non posso dirlo Che spoiler Di The Boys Ma che sfondo Anche io da piccolo E così scemo Mario ha una build Che devo dire È veramente piacevole Da guardare Wow Ok Mario Cioè proprio Hai detto Non voglio avere concorrenza Io sono Usain Bolt Delle postazioni Wow Questa è copertina totale È bellissima È un colpo d'occhio Incredibile Wow Oltretutto sto ascoltando Michael Jackson È un uomo di grande gusto Wow Ma questa cameretta È la cameretta più bella E chill Che abbia mai visto Wow Ma che bella La tua collezione Di action figure Di One Piece Wow Ma che bella La tua mini tastiera Cos'è cos'è Dimmi di più No non mi hai detto di più Per una volta Che volevo sapere di più Io sono senza parole Cioè io penso che ragazzi Le immagini parlino da sole È bellissimo Il colpo d'occhio Di questa postazione È piena di piante vere È piena di luci È piena di monitor È tutto così bilanciato E simmetrico Wow Ah ok aspetta Ci dice di più qua Direttamente nell'immagine Wow Ok il PC quindi In realtà Non è nemmeno per i film nuovi Ma diceva che stava rinnovando Un po' tutto Ha un portatile Ha delle case Ha delle luci Dici di più della tastiera però Oh mio dio Ma penso sia di Acco Può essere Sembra La 40% di Acco Che dovrei avere da qualche parte Non l'ho mai sembrato Ah ma questo è il ragazzo Di cui feci E dedicai una copertina In un CLWP proprio Che aveva fatto Un'evoluzione È pazzesca della postazione Partendo proprio dal nulla È arrivando Una postazione Ed è questa Ed è ancora meglio di prima Mario complimenti Bravo Ma è pazzesca È bellissima Ma ho i brividi Grande Bravo Ma non è Cioè in realtà Se la guardate Non è nemmeno Eccessivamente costosa Tolte le luci Della Govi Che potete sostituire Non sono elementi Tanto costosi È solo bella È costruita con gusto Ma che figata Bravo 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 Andiamo avanti Anche se Mario Penso che tu Sia proprio Quello che sarebbe considerabile Il dolce sinfondo Questo ragazzo Ha il sole Nel suo pc Perché quello Mi potete dire Che non sia una finestra Verso l'esterno Ok Mi piace quella censura Mi piace come hai censurato tutto Fulvi Ci guarda Guarda il mio canale Che bella sta copertina Non mi ricordavo di averla fatta Bella Hai l'Xbox Hai un pc Ciao Sono Manfredi E ho 15 anni Vecchio mio Giovane mio È metà dei miei anni Io non sapevo Che ci fossero delle persone Giovani Chiamate Manfredi Io ho un amico Che si chiama Manfredi Marcus Kron Però va per i 40 lui È un vecchio È un catorcio Gli voglio bene Comunque Sto scherzando È un muscolosissimo Adesso poi oltretutto Mi picchia a sangue Manfredi piccolo Mini Manfredi Manfredino Cosa c'hai Manfredino Dimmi di più Una postazione Che è letteralmente Un monitor E una striscia LED Le mie preferite Bellissimo Comunque Ricordati di usarla In queste condizioni di luce E mai in queste Perché fa male agli occhi Mi raccomando Manfredino Voi ce l'avete un amico Che è Gabrux Ho 14 anni E vivo in Toscana In provincia di Grosseto Gabrux Ha una postazione Molto luminosa Devo dire Però ho ottime scelte Di tastiere Ho ottime scelte di pc In realtà Oh che cavolo Ma questo è L'H6 Flow Interessante Per avere 14 anni È una postazione Che devo dire È preso che incredibile Perché onestamente Io ho 14 anni Avevo molto di peggio Non ce l'avevo nemmeno Una postazione Avevo una tv Un xbox Guarda dove sono arrivato oggi Ho delle postazioni peggiori Dei 14 anni Bella Bel pc comunque Bel accostamento Per avere 14 anni Ragazzi Cioè io ho visto Postazioni di ultra 30 anni Che giustamente Si trattano più sulla pratica Che sull'estetica Cioè Sto ragazzo ha una bomba Allora il fatto è che Non è solo costoso questo pc È anche assemblato bene Però metti una ventola In estrazione qui dietro Ancora tre E poi passiamo all'altro episodio Perché onestamente Ne voglio far uscire Uno al mio compleanno Perché so che una persona Ha mandato la sua postazione Che è una delle più belle d'Italia Non perdetevi L'episodio del 18 agosto Fidatevi È assurda Il signor Kumori Detto Gianni Perché Kumori è il nome vero Gianni è il nome d'arte Lavora nella cyber security E da più di 5 anni a Torino Ha deciso di farsi una postazione doppia Queste sono tutte le caratteristiche Della sua postazione Usa una Nufi Halo 75 Con tape modea Coiello V3 Ti tratti bene Il gentiluomo Ci manda Una foto della sua postazione Che devo dire Mi piace questo conubio di nero Grigio E elementi di bianco Per quanto concerne la luce Ma sicuramente funzionale Bella Postazione molto libera Oh bello il north Veramente molto piacevole da vedere Postazione molto interessante Utilizzo particolare Molto peculiare Devo dire Del tappetino in verticale Cioè lasci fuori completamente il resto E utilizzi il tappetino Solo per il mouse in lungo Fai questo tipo di movimenti Non riesco a capire Cioè mi sembra molto anomalo Postazione giustamente doppia Perché l'aveva detto Bella la sedia a sinistra Mi piace molto Potete vedere proprio La differenza estetica Tra le sedie ergonomiche E le sedie da gaming E tutto un altro mondo Tutto un altro mondo Oltretutto mi piace la luce Che fa un po' da separatore Bella la tastiera Mi piacciono i colori La Nufialo ha dei kick-ups interessanti Cable management Devo dire molto pulito Virgin Air Fabio Ha una postazione Che penso sia La più compatta Che abbia mai visto in vita mia E mi piace molto Sembra un ascensore Sembra che stia scendendo Verso il basso È molto molto carina Però abbiamo solo una foto Mi spiace perché È molto carina Ma quello è un nerf Sì c'è un mini nerf Bella mi piace Hai deciso di abbronzarti Solo a sinistra Però che compatta Che utilizzo dello spazio Cioè ma questo è un bonsai lego Sì questo è un bonsai lego Oltretutto hai pure messo I pannelli di insonorizzazione Così Per sfizio Ragazzi per questo episodio Di CLVP È tutto Noi ci vediamo Con l'episodio del 18 Agosto Ovviamente non perdetevelo Fatemi sapere che cosa ne pensate Nei commenti E se volete partecipare a questa serie Vi ricordo che vi basta Mandare una mail A postazione Mettete C'è la gmail.com CLVP Torna su base mensile Quanto meno Se non bimensile Anzi A cadenza bisettimanale Meglio così Effettivamente Vediamo In base al numero di postazioni Che mi mandate Non voglio renderla una serie noiosa Non voglio renderla una serie Che oberi il canale di nuovo Come è successo in passato Però ci tengo Ci tenete anche voi È una serie che secondo me È caratteristica di MTT Bisogna tenerla viva Per il resto Per il video è tutto Noi ci vediamo al prossimo Voi state su Modern Tech Salusa